2.500 metri quadrati di immobili della parrocchia di San Francesco saranno acquistati dalla società Terme in Popoli. I vari locali che versano in condizioni di degrado nel centro storico del comune saranno acquisiti dalla società dopo il contratto preliminare sottoscritto dall'amministratore unico Benigno Dorazzo e dal parroco Doluigi Ferrari. Dalle ceneri delle abitazioni che verranno restrutturate ne nascerà un albergo diffuso collegato proprio con la struttura termale. L'iniziativa andrà anche a integrare gli interventi servizi riguardanti il centro termale e l'agenzia per la promozione del turismo sostenibile che in fase di realizzazione presso i locali ex Grottino e Vecchie Terme.